Sono Emiliano, titolare del ristorante Bontana Scoste di Lierici, che io e mio fratello aprimo vent'anni fa, la nostra cucina è prettamente marinara e oggi vi proponiamo un piatto, un a base di vongole veracci, cavolo cappuccino, mantecato con parmigiano reggiano, con una piccola tartare di gambe rosse e il mangiare del ballo. Prepariamo il piatto facendo soffriggere un pochino di aglio con dei porri, tostiamo il nostro riso, aggiungiamo del brodo fatto precedentemente con scampi, gamberi, cicale, gamberoni, carote, sedano e via dicendo. E andiamo praticamente ad aggiungere piano piano il brodo, poi prepareremo una piccola crema di vongole mantecata con un pochino di mascarpone dove aggiungeremo il tutto al riso in cottura e alla fine, agli ultimi due minuti, mantecheremo il risotto con il nostro parmigiano reggiano e una volta impiattato il riso metteremo su una piccola tartare di gamberi e rossi del mangiare del ballo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!